Buon mercoledì 15 maggio da Alessandro Ranieri e dalla redazione di Newsmarket.it. Prima edizione di oggi del nostro WebTG. Come sempre iniziamo con i titoli. Parrucchiere aggredito con la spranga ad Ancona. Denunciato un bracconiere amatelica. I carabinieri gli sequestrano 5 fucili. 900 opere da 55 paesi per la Biennale dell'Umorismo di Tolentino. Salone del Libro e le Marche presenti con 60 eventi tra letteratura, arte e cultura. Vediamo subito un'ultima ora che arriva da Matelica. Un bracconiere di 61 anni pensionato di Matelica in provincia di Macerata. È stato denunciato dai carabinieri per aver cacciato di frodo nelle campagne della zona in un periodo in cui l'attività venatoria era proibita. L'uomo era stato segnalato al 112 da alcuni abitanti insospettiti dalle luci di un'auto che vedevano a girarsi nella notte nella boscaglia. A bordo della vettura i militari hanno trovato una carabina calibro 30 con 10 cartucce in canna e un dispositivo di illuminazione notturna. Mentre a casa del pensionato, che possiede un regolare porto d'armi, sono stati sequestrati altri 4 fucili e 100 cartucce. E adesso il primo collegamento di oggi con la redazione di Ancona da Radio Conero. Va a prendere un caffè con un cliente del suo negozio, il parrucchiere in corso a Mendola di Ancona. Quando torna trova due stranieri sospettando che si trovino lì per mettere a segno una rapina e inizia una collutazione con i due spalleggiato dal cliente. Il parrucchiere Guido Bacchiocchi è rimasto ferito al volto da una spranga. I due sono scappati prima dell'arrivo della volante della polizia. Da domani la città di Osimo sarà allo stand della Regione Marche a Saloni del Libro di Torino fino al 20 maggio. Nei corso dei 4 giorni i primi 15 che si richeranno allo stand e ritireranno il materiale della mostra da Rubens a Maratta avranno l'ingresso gratis alla mostra. Ed è tutto a te. Grazie Chiara. Noi adesso diamo un aggiornamento su una notizia che vi avevamo già dato ieri sera riguardo una frode fiscale a Porto San Giorgio. Non c'è stato notificato nessun atto e le contestazioni della Guardia di Finanza sono frutto di una interpretazione della normativa della GDF. Abbiamo sempre pagato quanto dovuto circa 350 mila euro l'anno in locazioni dopo aver rilevato la società della precedente gestione. Quanto ha riferito ai giornalisti Basilio Ciaffardini rappresentante di Marina di Porto San Giorgio S.P.A. La società di gestione dello scalo turistico san giorgese oggetto recentemente di accertamenti da parte delle fiamme gialle che si dice tranquillo. E adesso andiamo a Pesaro da Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. È stato siglato l'accordo tra Confcommercio Pesaro Urbino e l'organizzazione sindacale CGL Cisle Will per la detassazione dei premi di produttività per l'anno 2013. L'accordo sindacale potrà essere applicato da tutte le aziende avverenti al sistema Confcommercio nei settori commercio, terziario, servizi e turismo. Sabato 18 maggio in Piazzale della Libertà a Pesaro si svolge la tradizionale giornata mondiale della Croce Rossa. Si tratta di un'intera giornata dedicata ai volontari e servizi che l'associazione offre al cittadino. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. In collegamento da Senigalli c'è Alberto Olivieri, redazione di Radio Velluto. Sentiamolo. Bentrovati. Arrestato per stalking torna in libertà. Il GIP del Tribunale di Rimini, Sonia Pasini, martedì, ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Corrado Canafoglia, legale del 33enne senigalliese, accusato di non aver accettato la fine della storia con una donna di Rimini e per questo avrebbe continuato a chiamarla e seguirla per oltre un anno. Sorprese e soddisfazione per la città di Senigallia, che a Roma ha ricevuto un doppio riconoscimento insieme all'assegnazione della bandiera blu d'Europa delle spiagge per l'anno 2013, quest'anno il Comune di Senigallia ha ricevuto per la prima volta anche la bandiera blu d'Europa per gli approdi turistici. La bandiera è divenuta una sorta di certificato internazionale che tutti i tour operator attivi nei vari paesi assumono come prezioso punto di riferimento. Grazie Alberto, ed ora molto rapidamente il meteo. Eccole qui le previsioni per giovedì 16 maggio. Cielo inizialmente nuvoloso, molto nuvoloso, con parziale diminuzione della nuvolosità dal pomeriggio e qualche schiarita. Le precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o di temporale localmente intenso, in particolare nelle zone interne, nella prima parte della giornata. Le temperature in lieve e diminuzioni, venti moderati e sudorientali, con locali rinforzi fino a forti lungo la fascia costiera. Infine il mare sarà poco mosso. Con questo è tutto, saluti finali, grazie per averci seguito. Appuntamento per la prossima edizione alle ore 19. Buona giornata. Grazie a tutti.